Ciao ragazzi, sono Marco per gli amici il Cuso e benvenuti a una nuova puntata della Fisica che non ti aspetti. Perché di notte è buio? Questa domanda può sembrare quasi stupida, sciocca, banale, ma in realtà non lo è. Di notte è buio perché non c'è il sole. Devo ammettere che quando Alessandro mi ha fatto questa domanda in un messaggio privato io non ho resistito a rispondergli con questa stupidissima battuta, ma in realtà lui voleva parlare di uno dei paradossi più interessanti dell'astronomia, il paradosso di Olbers. Questo paradosso è attribuito ad Heinrich Wilhelm Olbers, astronomo tedesco dell'Ottocento che lo enunciò nel 1823, anche se pare che altri astronomi, tra cui per esempio Keplero, avessero tratto conclusioni simili ben prima di lui. In cosa consiste il paradosso? È presto detto. Il cielo notturno, buio e nero, è incompatibile con un universo infinitamente antico e contenente un numero infinito di stelle, uniformemente distribuite in tutto lo spazio. E come mai questa contraddizione? Beh, per capirlo dobbiamo ricordarci due cose. 1. Come si calcola la superficie di una sfera. 2. Come varia la luminosità di un oggetto con la distanza. Per la superficie della sfera è presto detto. La geometria ci dice, infatti, che essa vale 4 per pi greca per il raggio al quadrato. Per quanto riguarda la luminosità, sappiamo che più una sorgente di luce è lontana da noi e più la sua luminosità apparente sarà bassa. In particolare la luminosità apparente varia con il quadrato della distanza. È inversamente proporzionale al quadrato della distanza. Vuol dire che se io raddoppio la mia distanza da una sorgente luminosa, la sua luminosità apparente diminuirà di 4 volte e se triplico la distanza diminuirà di 9 volte. Ora mettiamo le due cose insieme e arriviamo al paradosso. Immaginiamo di dividere l'universo in gusci, in gusci sferici con al centro la Terra e proviamo a calcolare quanta luce arriva in totale da ciascun guscio alla Terra. Potremmo anche fare il conto, non sarebbe molto difficile, ma è inutile, possiamo fare una considerazione più generale. Consideriamo infatti due gusci che abbiano raggio l'uno, il doppio dell'altro. Ogni stella presente sul guscio più grande ci apparirà 4 volte più flebile rispetto a ogni stella presente sul guscio più piccolo. Ma allo stesso tempo la superficie è 4 volte più grande rispetto a quella dell'altro guscio, quindi ci saranno 4 volte più stelle. In generale la luminosità di ogni singola stella diminuisce con il quadrato del raggio del guscio, ma allo stesso tempo il numero di stelle aumenta con il quadrato del raggio. E questo cosa vuol dire? Vuol dire semplicemente che la luminosità totale vista da Terra di ogni singolo guscio è indipendente dal raggio. Cioè ogni guscio manda sulla Terra la stessa quantità di luce. Ma se ci fossero infinite stelle ci sarebbero infiniti gusci e se l'universo fosse infinitamente antico anche la luce delle stelle più lontane ormai sarebbe arrivata a Terra e quindi noi dovremmo vedere un cielo infinitamente luminoso. Il fatto invece che di notte non si veda nulla è una chiara indicazione che questi due presupposti non possono essere validi. Sono state proposte diverse soluzioni a questo paradosso per cercare di salvare per lo meno un universo statico. Alcune sono state avanzate da scienziati e matematici come per esempio Mandelbrot, altre invece da persone che apparentemente non hanno niente a che vedere con l'astronomia, come Edgar Allan Poe. Ma oggigiorno questo problema non ha più molto senso, perché il modello cosmologico attualmente più accreditato prevede l'esistenza di un Big Bang. E per intenderci il Big Bang elimina di netto entrambi i presupposti che poi portano al paradosso di Olbers. L'universo non è infinitamente antico, ha un'età definita poco più di 13 miliardi di anni e non contiene un numero infinito di stelle. Ce ne sono tantissime, ma non sono infinite. Allora il video finisce qui? No, perché il modello del Big Bang in realtà contiene al suo interno un altro paradosso, non troppo dissimile da quello di Olbers. Mi spiego. Circa 370 mila anni dopo il Big Bang, l'universo attraversò una fase chiamata di ricombinazione. Questa è stata la fase in cui cominciavano a formarsi i primi atomi di idrogeno. A causa della presenza di questi atomi gli elettroni venivano continuamente assorbiti e riemessi, assorbiti e riemessi, assorbiti e riemessi e quindi l'universo appariva opaco. E non solo era opaco, era anche incredibilmente luminoso. Ogni suo punto aveva una luminosità paragonabile a quella della superficie del Sole. Dopodiché l'universo si è espanso, si è raffreddato ed è tornato a essere trasparente, come lo vediamo oggi. Però avrete sicuramente sentito dire che se noi guardiamo lontano nello spazio è come guardare indietro nel tempo. Questo perché la velocità della luce è finita e quindi la luce che noi oggi vediamo arrivare da una qualunque stella o da qualunque corpo celeste in realtà è partita molto tempo fa e quindi noi stiamo vedendo un'immagine del passato di quell'oggetto. Andando a vedere sempre più lontano andremo a investigare momenti sempre più antichi del nostro universo. Ma allora non dovremmo arrivare a vedere anche quel bagliore dell'epoca di ricombinazione? In teoria dovrebbe essere ovunque nel cielo. Eppure, guardando il cielo di notte, noi lo vediamo completamente buio. Fortunatamente il modello del Big Bang contiene al suo interno anche la soluzione di questo paradosso. L'universo infatti si sta espandendo e quando andiamo a guardare oggetti molto lontani, che si stanno allontanando ulteriormente da noi, la luce che ci arriva da loro subisce un fenomeno noto come spostamento verso il rosso, o redshift in inglese. Lo spostamento verso lo rosso è dovuto a diversi fenomeni, tra cui per esempio l'effetto Doppler di cui parlai in uno dei primissimi video di questo canale. Ma perché questa sarebbe la soluzione del paradosso? Perché più un oggetto è lontano, e maggiore sarà lo spostamento verso il rosso subito dalla luce che esso emette. La luce proveniente da questo primordiale bagliore ha subito uno spostamento tale da essere andata oltre il rosso, da essere andata oltre l'infrarosso e da essere finita nelle microonde. Se infatti noi puntiamo un radiotelescopio e non un telescopio ottico verso il cielo, vedremo provenire da ogni punto della volta celeste una debole luminescenza a microonde. Questa radiazione cosmica di fondo a microonde, come viene chiamata, è per l'appunto il residuo, tutto ciò che noi oggi possiamo vedere, di quell'originale bagliore. Quindi non è vero che il cielo notturno non è luminoso, semplicemente i nostri occhi non riescono a notarlo. Bene ragazzi, questo video finisce qui, se vi è piaciuto come al solito mettete un bel pollice in su, qui accanto troverete un altro video che sono sicuro vi interesserà molto. Io vi ringrazio per la visualizzazione, ci vediamo al prossimo video e come al solito, siate curiosi, la fisica è là dove non ve l'aspettate. Grazie. Grazie.